Questo rapporto fra Montalbano e Ligia, ma alla fine Montalbano, Ligia, la sposeranno? E' una risposta un po' complessa, perché ho ricevuto un giorno una busta, Andrea Camilleri, che abitava allora in un indirizzo che non dirò, e apro questa busta e dentro c'era una cartolina postale che rappresentava Bocca d'Asse, vista dal mare, bellissima. Nella cartolina, la cartolina era indirizzata a Salvo Montalbano, commissariato di Ligia, Ligia, ed era una cartolina di Ligia, che diceva Salvo, mi sono proprio rotta delle tue terciversazioni, del tuo oggi sì, domani no, del tuo cattivo carattere, mangi troppo, rischi di diventare obeso, se è insopportabile, non so se ti sposerò, allora forse è bene una volta tanto capovolgere la domanda, ma Ligia sposerà mai Montalbano? Forse la più giusta. Ma vorremmo sapere, ma Ligia sposerà mai Montalbano? Ecco, dopo il romanzo Una lama di luce, è chiaro che io ho costretto tutte e due in una situazione dalla quale sarà difficile uscire, cioè, ma poco fa, e lei avrebbe dovuto fare il tesoro delle mie parole, poco fa ebbe a dire che non sempre i personaggi letterari muoiono di morte, come muoiono le creature umane, sono personaggi letterari e quindi non è detto che Montalbano debba morire. Anche questo è stato un insegnamento alla Fiera del Libro di Parigi, ci ritrovavamo in tre. Jean-Claude Pizzo, ottimo scrittore di gialli di origine italiana, scrittore francese, il cui personaggio è il commissario francese, ma col nome italiano, Fabio Montale. C'era Manolo Vazquez, Montalbano, che aveva il suo personaggio, Peppe Carvaio, e c'ero io con il mio Montalbano e stavamo tutte e tre a dire, ma come facciamo a liberarci di sta gran camoria di questo personaggio che abbiamo creato? E allora Jean-Claude disse, guardate, io lo lascio ferito a morte dentro una parca, se lo sede e poi lo ripogliono, qualcuno lo becca, lo salva, non c'è problema. Manolo è scogitò una morte laboriosissima per ingestione di Peppe Carvaio. E poi tutte e due si voltarono verso di me per dire, e tu? In quel momento mi chiamarono al telefono, quando tornai il discorso era sviato. L'anno dopo morì Jean-Claude D'Inso, due anni dopo morì Manolo Vazquez. Con il cavolo che io faccio così. Grazie.